Lì c'era una questione su cui noi non siamo entrati nel modo più assoluto né come Cinecittà né io come associazione di produttori audiovisivi perché sulle nomine, sulla gestione eccetera, noi non siamo mai stati interpellati in realtà e sinceramente preferirei non l'essere. Io penso che Marta Donzelli sia una bravissima professionista e quindi assolutamente credo che stava facendo un buon lavoro, è una persona che conosco. Penso anche che la politica è sempre un po' entrata nelle nomine anche del centro sperimentale, anche quelle prime.